Salve, siamo qui per Sottosopra, siamo con il professor Franco Cardini che ringraziamo per aver accettato il nostro unviso. Parleremo un attimo dei conflitti in Ucraina, il professore ha scritto insieme al generale Mini un libro Ucraina, la guerra e la storia, un po' ci muoveremo e poi resteremo anche un attimo sulla stretta attualità. Intanto iniziamo subito con la prima domanda su un tema che il professore ha sempre sviluppato ha sempre tenuto a precisare quando interviene sul dibattito, sulla guerra e parla sempre di una guerra che viene da lontano insomma non la retorica un po' mainstream che la fa partire in questo anno ma dice un conflitto che parte da lontano. Che cosa intende quando dice che il conflitto parte da lontano? Beh voglio dire che i problemi aperti dall'inizio degli anni 90 dalla fine dell'Unione Sovietica, dal vuoto dell'Unione Sovietica ha lasciato dai tentativi di riorganizzazione di uno spazio enorme lo spazio euroasiatico tra l'Europa orientale e la frontiera cinese sono problemi che sono rimasti aperti perché in un primo tempo si è pensato, si è creduto e si è voluto anche credere e si è voluto attuare il principio della cancellazione della Russia dal novero delle grandi potenze quasi si è cercato di mettere in dubbio la sua possibile continuare a essere un grande Stato libero, indipendente che poi si sarebbe governato secondo i principi che il suo popolo avesse scelto ma che comunque sembravano essere quelli di quello che noi chiamiamo genericamente l'Occidente se non che questa operazione che in un primo tempo sembrava riuscire brillantemente ha portato con sé degli squilibri immediatamente il malgoverno del periodo Yeltsin e di malgoverno si può parlare a tutti i livelli dall'inefficienza alla disonestà alla violenza fino alla sudditanza in realtà del sistema russo con le sue immense risorse nei confronti di una serie di soggetti anche privati naturalmente statunitensi o euro-occidentali che venivano messi praticamente nelle condizioni di dominare e di sfruttare facendolo a pezzi quel grande paese finché c'è stato un inizio di riorganizzazione a partire dai primi anni 90 e grazie a un giovane militare il colonnello Putin che ormai tutti conoscono giovane militare dei servizi dei servizi di polizia che ha cercato di avvicinarsi all'Occidente in un primo tempo con grande successo tutti ricordano pratica di mare il tempo in cui sembrava che la Russia volesse entrare addirittura nella Nato o costruire un rapporto paritetico sistema Nato, sistema Russia anche se il sistema Russia doveva tenere conto di tutti i paesi vicini quelli appartenenti alla cosiddetta cooperazione o meglio confederazione degli stati indipendenti si chiamava così CSI nessuno lo ricorda più ormai da qui la mia esitazione tutte le volte ne voglio parlare ma era una cosa interessante tutto questo è fallito Putin stesso l'ha dovuto denunziare in un famoso discorso del febbraio del 2007 in cui diceva noi abbiamo fatto di tutto ci siamo resi conto che quello che vi interessa è smembrare il nostro paese e sostituire le nostre istituzioni anche economiche, finanziarie, tecnologiche con istituzioni che in qualche modo fanno capo a voi con nessun vantaggio anzi con grandi svantaggi del popolo russo a questo punto naturalmente è cominciata una deriva nei rapporti fra la Russia e il mondo che noi chiamiamo occidentale che è politicamente parlando quello occidentale cioè quello costituito dall'alleanza a quanto pare inossidabile tra gli Stati Uniti d'America e i governi dell'Europa occidentale e siamo arrivati gradualmente a questo punto con episodi straordinariamente gravi ho parlato di un discorso molto chiaro del Presidente Putin nel 2007 si risponde immediatamente suscitando una sorta di colpo di Stato arancione quindi filo occidentale democratico progressista eccetera in Georgia che in realtà è un modo per far entrare la Georgia nel sistema di difesa e la Nato e far avanzare i punti di fuoco fuoco nucleare della difesa Nato sempre più verso il cuore di Mosca la Russia oppure dei paesi che in qualche modo possono essere considerati alleati o vicini alla Russia l'Iran per esempio i russi immediatamente rispondono al golpe del georgiano del 2008 si risponde da parte russa creando suscitando e creando con successo una repubblica autonoma osseta del sud che esiste ancora che è riconosciuta soltanto dalla Russia e dai paesi amici della Russia ma che continua ad esistere e che in qualche modo risponde a questa avanzata della Nato e quindi degli Stati Uniti d'America perché gli Stati Uniti d'America sono militarmente il nucleo forte della Nato verso Oriente un'avanzata a proposito della quale si era già parlato all'inizio degli anni 90 fino dai tempi di Gorbaciov e lì anche se non sono mai stati scritti dei trattati formali gli Stati Uniti d'America avevano garantito ai vari governi russi che mai e poi mai la Nato avrebbe costituito una minaccia nei loro confronti si parlava addirittura di non progresso della linea difensiva che è anche offensiva fatalmente come sempre le linee che sono militarmente guardate militarmente attrezzate della linea offensiva dicevo della Nato verso Oriente nel 90 si era promesso a Gorbaciov da parte autoregolmente importante del segretariato di Stato degli Stati Uniti d'America che l'avanzata del confine Nato verso Oriente non ci sarebbe stata non sarebbe andata oltre la linea che separava la vecchia Germania Ovest dalla vecchia Germania Est ebbene dopo 30 anni noi ci troviamo con una linea che ormai è arrivata alla Finlandia è arrivata all'Ucraina perché sembra che comunque vadano le cose a meno che non ci sia veramente una resa incondizionata dell'Ucraina nei confronti della Russia e questo io lo escluderei perché dietro all'Ucraina c'è la potenza economica militare tecnologica eccetera di tutto l'Occidente cioè degli Stati Uniti in America e dell'Europa che non fa nulla per distinguersi nemmeno diplomaticamente dalla linea americana quindi l'Ucraina resterà in piedi a lungo combatterà contro la Russia riuscirà non so se riuscirà a vincere la guerra ma certamente riuscirà a resistere per molti mesi perché in realtà la guerra attuale non è una guerra fra Russia e Ucraina ma è una guerra fra Russia e potenza della NASA ed è una guerra che è stata lungamente preparata era una cosa che era sfuggita questa nel famoso discorso del 24 febbraio dell'anno scorso del 22 al presidente Putin quando in toni come il suo solito molto freddi glaciali quasi ma sostanzialmente trionfalistici lui affermava che dopo l'operazione speciale come lui la chiamava nei confronti dell'Ucraina che era una sorta quasi di spedizione punitiva ma per quello che stava avvenendo nell'area orientale dell'Ucraina dove il cosiddetto Donbass la striscia occidentale del fiume Don dove non solo ci sono numerose colonie numerosi gruppi etnicamente culturalmente civicamente russi ma ci sono anche ucraini che continuano ad essere russofoni e russofili perché la realtà è che il rapporto fra l'Ucraina e la Russia che che se ne dica è connaturato a tutta la storia russa dal medioevo a oggi e si è in particolar modo stretto a partire dal 600 quando l'Ucraina è diventata parte integrante di quella che si chiamava il sistema di tutte le russie la grande russia la piccola russia la russia bianca eccetera eccetera quindi a quel punto però bisogna dire che in seguito è nato un nazionalismo ucraino si è cercato di distinguere sempre di più l'Ucraina dalla Russia prima in un modo amichevole e fraterno poi in un modo sempre più forte soprattutto dopo la rivoluzione d'ottobre è nato un nazionalismo ucraino cosciente di sé sul modello euro occidentale che non guardava più alla Russia come la grande madre ma guardava semmai alla Russia come una sorella maggiore un po' capricciosa e un po' ingombrante sono nate frange sempre più forti di un nazionalismo ucraino anti-russo peggiura durante la prima guerra mondiale non dimentichiamo che i nazionalisti di feggiura hanno tenuto a bada per diversi mesi sia le truppe rosse sia le truppe bianche durante la guerra civile che c'è stata fra il 1917 e il 1921 poi il grande tentativo da parte della Russia che c'è stato di disciplinare le istanze nazionaliste ucraine fino al tentativo di spezzarle il periodo dell'olodomor della cosiddetta grande fame quando il governo moscovita ha fatto il governo sovietico moscovita non solo Stalin ha fatto di tutto per piegare addirittura gli ucraini con la fame quindi questa fratellanza questa unità in fondo chi di noi sosterrebbe che il grande Gogol non è russo per il fatto che è ucraino l'ucraino è una lingua che somiglia moltissimo al russo anche se per la verità somiglia ancora di più al bielorusso al polacco ma certo c'è un rapporto come c'è un rapporto storico strettissimo questo rapporto si è andato rompendo nella seconda guerra mondiale gli ucraini hanno risposto all'olodomor alla repressione sovietica costruendo addirittura delle divisioni intere di ucraini che sono andati a combattere anche valorosamente insieme ai tedeschi con le con le uniformi tedesche molti ucraini addirittura hanno fatto di più e di peggio sono andati sono andati nelle parti SS sono andati a fare il lavoro sporco dei campi di sterminio e via discorrendo quindi ci sono responsabilità da entrambe le parti quando poi dopo il 1990 l'ucraina che già aveva ricevuto dalla stessa unione sovietica una forte un forte consenso rispetto alla costruzione di un mondo identitario nazionale e quindi indipendente con Khrushchev Khrushchev il quale personalmente era ucraino aveva favorito questo trend e tutto questo poi ha portato negli anni 90 a una dialettica interna del mondo ucraino che è arrivata a una vera e proprio scontro e si può dire a una guerra civile tra semplicizzo per forza di cose tra filorussi e antilussi e naturalmente la Russia ha reagito sostenendo i filorussi creando difficoltà nei confronti degli antilussi è chiaro che i filorussi sono più forti e più densi nella parte orientale dell'Ucraina attuale come in Crimea in Crimea è successo una vera e propria guerra guerreggiata con responsabilità pesantissime questo va detto dei vari governi di Kiev soprattutto dopo il colpo di Stato che portò al potere il signor Poroshenko il quale fece unilateralmente un rapporto addirittura stipulò un accordo con l'Unione Europea per cui poteva sembrare che l'entrata dell'Ucraina nella compagina europea occidentale fosse una questione addirittura di pochi mesi e di pochi giorni ovviamente i russi reagirono reagirono anche gli ucraini che non intendevano abbandonare la marre patria russa ne è nata la questione la questione della Crimea in Crimea senza dubbio le popolazioni russe e russofone sono molto forti sono molto dense sono anche culturalmente avanzate eccetera è successo quello che sappiamo anche se lo sappiamo in maniera distorta e non sempre equa è successo cioè che la Russia ha invaso l'Ucraina ha invaso scusate la Crimea e se l'è se l'è presa con sé se l'è presa per sé usa un linguaggio molto inappropriato ma il tempo stringe e da allora sono nate le sanzioni che il mondo occidentale ha combinato nei confronti della Russia però bisogna dire che la Russia è stata trattata in modo non eco in questa in questa situazione senza ascoltare le sue le sue ragioni e le sue anche le sue legittime aspirazioni finché col governo Zelensky che nacque non dimettichiamolo su un programma di pacificazione tra ucraini e russi che continuavano a dire di essere popoli fratelli e come in realtà lo sono storicamente nonostante tutto siamo arrivati a questo punto quando siamo arrivati a questo punto noi siamo stati ingannati da un inganno molto serio e molto ben costruito che aveva perfino ingannato il capo del Cremlino che con tutti i suoi servizi speciali eccetera credeva effettivamente che le istanze separatiste ucraine le istanze antilussie ucraine non fossero sostenute se non da un leggerissimo velo di tipo propagandistico che dietro le pretese le minacce la propaganda del signor Zelensky non ci fosse nulla non era vero e ce ne siamo accorti ce ne siamo accorti abbastanza rapidamente ma anche gradualmente in realtà da tempo le potenze occidentali e in particolar modo gli Stati Uniti d'America e in particolarissimo modo gli Stati Uniti d'America degli ultimi dell'ultimo decennio lavoravano a una separazione definitiva dell'Ucraina dalla Russia e a un ingresso anche formale dell'Ucraina nell'ambito difensivo della Nato che noi sappiamo e lo sappiamo molto bene che dalla fine almeno degli anni 90 non è più un ambito solo difensivo ma è diventato un ambito offensivo la Nato non avrebbe più avuto ragione d'essere quando si è sciolto dall'altra parte il patto di Varsavia anche se la Nato non era nata contro questo è un gioco di parole che viene sempre fuori e che è antipatico ma ogni tanto ci caschiamo la Nato era assurda non in rapporto in contrapposizione al patto di Varsavia il patto di Varsavia è nato successivamente alla Nato quando ci si è resi conto che in realtà la compagine della Nato era un'estensione militare politica della potenza degli Stati Uniti d'America che tendevano a annullare politicamente l'Atlantico per così dire stabilire una realtà occidentale che è evidentemente fatta di solidarietà fra gli Stati Uniti e l'Europa occidentale ma dove questa solidarietà non è ripartita al 50% perché la forza egemone è quella statunitense e la forza subalterna è quella europea ed è tanto subalterna che è successa una cosa indescrivibile che non si può nemmeno spiegare che quando gli si danno le parole per dirla per esporla ci accorgiamo noi stessi che è una cosa enorme basta dirla a voce alta e ci chiediamo ma come è potuto succedere ormai la guerra va avanti dal marzo dell'anno scorso quindi siamo quasi a un anno di guerra in quest'anno di guerra ci sono stati dei rapporti anche economici e diplomatici mettete in fila mentalmente le volte in cui l'Unione Europea come realtà ma attenzione perché l'Unione Europea non è una realtà politica è una realtà economica è una realtà amministrativa è una realtà burocratica è una realtà tecnologica non è una realtà politica gli Stati Uniti d'Europa non sono una compagine politica unitaria quindi non si può nemmeno chiedere agli Stati Uniti d'Europa un impegno unitario che potrebbe essere nell'ordine del tentativo di mediare in qualche modo tra governo ucraino e governo russo in fondo l'Europa avrebbe tutto da guadagnare dalla pacificazione se il governo ucraino attualmente è sostenuto dalla forza degli Stati Uniti d'America e se gli Stati Uniti d'America vogliono continuare evidentemente per mettere in difficoltà alla Russia questo stato di guerra beh è abbastanza normale pensare come cittadini europei che i nostri paesi invece avrebbero un interesse e una sensibilità diversa anche perché insomma quello che succede tra Russia e Ucraina tocca poco gli Stati Uniti anche dal punto di vista geografico non parliamo dal punto di vista economico energetico eccetera mentre tocca moltissimo noi e allora noi abbiamo tutto l'interesse divergente rispetto agli Stati Uniti che così con la scusa della sanzione all'Unione Sovietica ci danno il pessimo gas liquido che noi dobbiamo riportare allo stato gassoso ci vendono un sacco di materie prime di servizi eccetera sono una delle concause della situazione pesantissima in cui noi ci troviamo a cominciare dall'inflazione dall'inflazione quando si pensa che solo qualche giorno fa il governo della signora Meloni ha tranquillamente ceduto un lotto di centinaia di milioni di euro di armamenti di armamenti non medicinali non generi alimentari non aiuti tecnologici armamenti all'Ucraina che andranno in fumo che finiranno in questo pozzo senza fondo che è questa guerra assurda e allora noi ci chiediamo ma quali quali energie hanno messo in campo i nostri paesi a cominciare dall'Italia che hanno una diplomazia efficiente e si dovrebbe dire anche indipendente che non è tutta assorbita dai nostri impegni nei confronti dell'Unione Europea che ripeto non è nemmeno una realtà politica per esempio cosa abbiamo fatto noi italiani in questi quasi quasi dodici mesi di guerra quali passi abbiamo fatto nei confronti del Cremlino abbiamo cercato veramente di fare un discorso di pace io ho sentito i nostri ministri degli esteri che in un modo o nell'altro stendiamo un velo su quello che era il ministro prima delle elezioni ma anche ma anche l'attuale sistema hanno fatto un passo concreto attivo propositivo per quello che è necessario e lo vediamo tutti i giorni una pace immediata o perlomeno una tregua che permetta alle due parti di sedere a un tavolo e discutere per me questi ci hanno detto il presidente Putin non è disponibile a tutto questo il presidente Putin vuole semplicemente la resa incondizionata poi ormai questa rete di menzogne si è andata ha fatto la fine di tutte le menzogne si è andata sfilacciando si sono aperti dei varchi e alla fine abbiamo capito e abbiamo ammesso abbiamo dovuto ammettere ci sono le carte che parlano che in realtà da parte russa non c'è mai stata una una negazione assoluta alla volontà di trattare il presidente Putin ha semplicemente detto che quando si deve fare delle trattative di pace tra due parti che sono in guerra bisogna che siano i protagonisti di questa tensione a sedersi al tavolo della pace e il signor Zelensky non è il protagonista di questa situazione perché Zelensky resta lì dov'è e fa le cose che fa perché è sostenuto dalle armi dal supporto tecnico dal supporto economico dal supporto finanziario dal supporto diplomatico e in tutto e per tutto dipende dall'occidente ormai non lo non lo nasconde nemmeno più ormai anzi se ne fa quasi paradossalmente un elemento di forza ci rimprovera di non essere abbastanza generosi con lui di non essere abbastanza coraggiosi secondo lui noi dovremmo accettare la sua guerra e farla così come dice lui ma la domanda è la dice veramente lui perché Putin ha le sue ragioni quando sostiene che è giusto trattare la pace ma la pace la devono trattare i protagonisti di un conflitto quando c'è un conflitto e da una parte il protagonista da un conflitto è senza dubbio la Russia dall'altra parte è veramente Zelensky se Zelensky venisse abbandonato dalle potenze occidentali cadrebbe in 24 ore e lui lo sa benissimo è il primo a saperlo e le potenze occidentali non hanno tutti la stessa voce perché parlano col megafono di Washington le altre potenze incluse io so quella europea per l'eccellenza che è la prediletta degli Stati Uniti per tante ragioni anche storiche e che potrebbe parlare quella inglese tutti tacciono tutti sono alla sono al seguito della scelta della presidenza degli Stati Uniti che in questo momento vuole una guerra tesa a ridurre la Russia a una situazione che la riporta indietro ai trent'anni e quindi in prospettiva a ridurre tutto il mondo eurasiatico dall'Europa occidentale fino alla frontiera cinese a una costellazione di piccoli o meno piccoli stati di tipo arancione diciamo così dove ci sia una sverniciatura formale di cultura democratica all'occidentale dove ci sia un'economia di mercato dove possano agire le grandi lobbies dove tutto possa in altre parole essere funzionare a una politica che è quella egemonica degli Stati Uniti d'America quindi noi in questo momento stiamo in una guerra e noi europei la stiamo subendo che è una guerra fra la Russia e i suoi possibili eventuali virtuali virtuali in parte già reali alleati anche se per fortuna non sono ancora entrati nel conflitto e dall'altra parte gli occidentali che in questo momento stanno facendo una guerra totale certo la stanno facendo a spese biologiche del popolo ucraino voglio dire che il popolo ucraino ci mette il suo sangue nel senso tecnico letterale del termine i 45 milioni di ucraini si stanno decimando per fare una guerra che non è loro perché non è sostenuta dalle loro forze militari dalle loro forze economiche dalle loro forze finanziarie dalle loro forze anche diplomatiche è sostenuta dalla volontà di un governo e di una classe dirigente non sappiamo fino a che punto munito di consenso perché noi continuiamo a raccontarci la fiaba esattamente una ucraina libera democrafica e occidentale non è vero la pianista la più grande interpreta di Rachmaninov che esiste in Europa la signora Letizia che doveva fare un concerto che è una profuga è una profuga perché è una ucraina anti-silenskista e non è potuta rimanere in Ucraina ed è venuta qui da noi avrebbe dovuto fare nelle prossime settimane un concerto alla Fenice questo concerto alla Fenice è stato cancellato le istituzioni dirigenti di quel teatro si tratta della Fenice di Venezia non si tratta del teatrino ai Pontassieve la Fenice di Venezia la dirigenza della Fenice di Venezia dice ipocritamente di essere stata costretta a cancellare questa esibizione della signora che ucraina ma anti-silenskista perché c'era una pressione dell'opinione pubblica ora io mi chiedo ma sono mesi che l'opinione pubblica italiana si esprime contro questa sporca guerra sono mesi che noi ne parliamo noi cittadini noi gente noi gente comune ne parliamo con tutti i nostri mezzi i nostri mezzi non arrivano nemmeno quasi a scalfire i mass media qualche mass media si è accorto che esistiamo alla fine ha cercato di metterci a tacere ha cercato di ridicolizzarci ha cercato di intimidirci ha cercato di intimidirci in prima persona non ci sono granchi riusciti ma avranno vinto loro perché sono i più forti cosa fa il nostro il nostro parlamento il nostro parlamento è fatto di gente che in gran parte è in accordo con noi è in rapporto con noi io personalmente conosco tanti deputati senatori parlo con loro gli dico queste cose ne ricevo anche assenso e assicurazione ma di tutto questo non si parla mai nelle due camere né al senato né alla camere dei deputati in italia questo è una è una vergogna assoluta è uno scandalo indecoroso la buffonata di far vedere il presidente Zelensky perfino al festival di Sanremo non è solo una buffonata è un crimine mediatico perché costituirà un ennesimo elemento di intimidazione o di falsificazione della realtà di cui saremo vittime noi e a questo punto il nostro governo si deve rendere conto che ogni giorno che passa nel suo silenzio ogni giorno in cui il nostro governo non fa nulla di diplomatico per mettere sul piano e avrebbe gli strumenti per farlo anche unilateralmente anche da solo per mettere sul piano sul tavolo internazionale la volontà di pace degli italiani non si fa nulla si dice semplicemente che le cose continueranno finché deciderà il popolo ucraino che sarà il popolo ucraino che deciderà quando sarà il momento di avviare la pace bene il popolo ucraino non ha nessuna voce a voce il governo di Zelensky che è al servizio della volontà del governo degli Stati Uniti d'America questa è la pura semplice realtà ogni tentativo di anacquare in qualche modo questa durissima realtà è costruito soltanto sulla menzogna e questo va detto con chiarezza e bisogna cacciarcelo in testa a tutti sì questo sì in effetti soprattutto sulle ultime cose che diceva cioè non riuscire a far emergere almeno ultimamente qualcosina sì come detto è uscito è uscito nella tv o nel mainstream però diciamo che veramente viene solo addossata i medi c'erano dove tutta la colpa si è addossata poi solamente a una parte solamente alla Russia solamente a Putin questo grande dittatore sanguinario l'invasore ed è questo che poi è permeato poi come sa io la mia madre è svedese e anche sui giornali in Svezia questa cosa è una russofobia incredibile e quindi anche con l'entrata poi ora veramente fuori tempo massimo senza della Finlandia e della Svezia all'interno della Nato vediamo questa grande questa grande narrazione unica che pervade e chi prova veramente a dire qualcosa a mettere in chiaro alcune questioni viene trattato alla stregua di un complottista o altro come diceva lei ora addirittura nella televisione italiana al festival principale della musica sarà invitato Zelensky farà un suo intervento soprattutto nella serata finale quella della premiazione è una cosa di una gravità inaudita ecco se magari ci può dire ci può dire altre due cose in questo momento possiamo dire fideistico atlantista in cui il governo comunque italiano passava da Letta Draghi e la Melone non è mai stato messo in dubbio il conflitto in Ucraina ecco questa grande narrazione sembra invincibile e inscalfibile quindi io le chiedo insomma di dire sinteticamente altre due cose su questo punto ecco la situazione italiana credo che sia sotto gli occhi di tutti noi abbiamo siamo in presenza di una politicamente parlando interessante sequenza di avvenimenti io non esito a spezzare non una ma 10 20 50 lance a difesa personale il governo di Giorgio Meloni e di lei personalmente Giorgio Meloni che si è dimostrata una spanna superiore rispetto anche a tutti gli altri politici italiani direi nessuno escluso e che parte tanto più superiore perché partiva da una situazione di inferiorità assoluta lei donna giovane a capo di un partito che arrivava a punte del 5% ma solitamente si stabilizzava sul 3 lei è riuscita a portarlo a un livello che forse è molto labile la maggioranza di coloro che in questo momento hanno simpatia per i fratelli d'Italia e se ne andranno al primo colpo di vento sfavorevole ma per il momento lei è riuscita a fare tutto questo come l'ha fatto e come ha evitato di venire da parte degli avversari e magari anche da parte di qualcuno dei suoi sedicenti alleati di venire messa da parte con la più banale la più ovvia ma anche la più incisiva ed efficace delle accuse è una neofascista come mai in un paese in questo paese che ha vissuto per tre quarti di secolo i panni in resistenza non si è mai fatto i ragazzi del Damiani di Roma hanno fatto degli striscioni ma tutto si è fermato lì tutto ha taciuto perché ah perché Giorgia Meloni ha avuto un'intelligenza politica e badate un'intelligenza politica accompagnata anche da una sua personale buona fede lei crede nelle cose in cui dice lei è un'atlantista convinta è un'occidentalista convinta in questo lei non appartiene nemmeno al mainstream del suo partito di provenienza che era un partito complesso tormentato molto più complesso di quanto sembri o di quanto si dicesse no no lei aveva fra i suoi compagni di lotta fra i suoi amici personali dei fieri nemici degli Stati Uniti dei fieri alleati simpatizzanti magari per la Russia o addirittura per l'Iran o addirittura per Fidel Castro è riuscita a vincere la sua lotta interna e a imporre questa linea che si è rivelata vincente per lei perché ha capito che lo scudo dell'atlantismo l'avrebbe salvata politicamente all'interno e all'esterno della compagine occidentale oggi di Giorgia Meloni non si può più parlare male il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha interposto il suo scudo di difesa nei confronti di Giorgia Meloni in un paese dove si era abituati a elargire patenti di fascista di neofascista e quindi antisemita e quindi chi ne ha più chi ne ha più ne metta in un paese come questo tutto è taciuto ha taciuto anche capillarmente hanno taciuto anche i centri sociali sì lo so anch'io c'è qualche blog che continua ma in realtà Giorgia Meloni è riuscito a metterli a tacere non ha fatto niente si è semplicemente posta a capo dell'alleanza atlantista degli italiani è diventata la punta di diamante degli atlantismi nel nostro paese questo l'ha messa e fino a non so quando non riesco a immaginare fino a quando la serrà al riparo da ogni attacco interno ed esterno è stato politicamente parlando un capolavoro bisogna dire chapeau brava Giorgia politicamente è stato straordinario che a me la cosa non piace affatto è un altro discorso ma insomma io non sono parte in causa in questa faccenda la realtà è questa e lei sa benissimo che finché continuerà in questo modo non avrà attacchi non avrà guai lei può tranquillamente buttare milioni di euro come ha fatto recentemente nella bocca di questa guerra scellerata sotto forma di armamenti o altri aiuti da parte nei confronti degli ucraini e nessuno e nessuno dirà mai nulla il suo fedele e intelligente ministro uno dei suoi migliori Rosetto lo ha detto chiaramente lo ha detto Davos l'Italia farà la sua parte l'Italia non farà nulla nemmeno formalmente con i suoi ministri con il suo ministro degli esteri con i suoi ambasciatori non manderà nemmeno un bigliettino al signor Putin per dire ma perché non smettiamo non la piantiamo in questa guerra perché non troviamo un modo per accordarsi gli italiani sono amati sono amati in Russia sono amati in Ucraina si ama il bel canto italiano si ama l'arte italiana prima della guerra si era e grazie a Dio invasi dai turisti russi ucraini eccetera saremmo i più indicati saremmo potremmo essere la punta di diamante del discorso della pace ma Giorgia Meloni deve conservare il suo posto facendo la punta di diamante dell'atlantismo e l'atlantismo oggi vuol dire guerra il signor Biden non ha mai detto una parola per avviare il discorso di pace ci si aspetta che il discorso di pace lo avvii quell'altro e tutte le volte che quell'altro cerca di intavolare un discorso si dice che non basta non basta che lui sia disponibile lui si deve ritirare dal territorio ucraino ma si deve ritirare del tutto ma si deve ritirare unilateralmente altrimenti non ci crederemo in altri termini o si dichiara sconfitto e quindi se ne va si suicida fugge in un'isola deserta fa tutto quello che vuole ma si è si leva di torno perché a questo punto noi gli chiediamo un suicidio politico che potrebbe anche coincidere con quello fisico perché no molti ne sarebbero felici altrimenti non faremo la pace ma siamo sicuri che poi una volta tolto di mezzo Putin tutto questo basterebbe conosciamo abbastanza bene la realtà russa non signori non la conosciamo affatto una volta uscito di scena Putin probabilmente verrebbe fuori molto di peggio e c'è esiste potenzialmente anche nel mondo russo stesso Putin è in un certo senso una garanzia di equilibrio è un dittatore noi stabiliamo patenti di dittatori a chi ci pare a noi il presidente Bolsonaro l'abbiamo sempre chiamato presidente Bolsonaro in fondo tutto sommato ai bei tempi di 60 anni fa noi continuavamo a dire il presidente De Gaulle badate che De Gaulle era un dittatore era un dittatore illuminato era un dittatore simpatico era un dittatore saggio era un dittatore era cioè uno che governa manovrando le istituzioni demografiche lasciandone in apparenza vive alcune parti alcune parti eliminandole ma facendo un governo che è quello suo e del suo entourage questo fino a prova contraria è un dittatore perché il termine dittatore poi istituzionalmente non esiste nella pratica politica insomma è una cosa che distribuiamo noi quando Chavez era un dittatore Bolsonaro non era un dittatore Assad è un dittatore certi certi figuri che governano certi paesi africani e li governano in accordo con le lobby inglesi o francesi eccetera e fanno l'interesse di quelle lobby non sono dittatori sono presidenti e vanno in giro con i loro uniformi o con i loro abiti magari tagliati a Parigi con le loro signore con le loro automobili e nessuno dice loro che sono dittatori beh questa è la questa è la nostra realtà come diceva quel politico americano is a sony bitch but our sony bitch è un figlio di puttana ma è il nostro figlio di puttana noi occidentali siamo pieni di nostri figli di puttana e il signor Zelensky è un nostro figlio di puttana non mi permetterei mai di offendere la madre di una persona che io personalmente non conosco sia chiaro che non sto dicendo questo sto dicendo che Zelensky rientra in quelle categorie di cui alcuni politici americani poco educati ma molto efficaci hanno detto che sono i nostri figli di puttana in questo momento noi abbiamo aperte le virgolette un nostro figlio di puttana che governa Kiev ripeto sono personalmente dell'avviso del signor Zelensky mi sta insommamente antipatico ma ho il massimo rispetto di lui e della sua famiglia a livello personale non voglio dire questo voglio dire che lo si considera in questo quadro di riferimento politico diplomatico molto poco ben educato ma anche molto efficace questa è la nostra realtà occidentale noi non facciamo un passo per garantire un avvio un possibile avvio di tregua abbiamo addirittura criticato ferocemente alla fine l'abbiamo reso inefficace la mossa di Putin una mossa cristiana una mossa umanitaria sarà stata fatta da un criminale da un dittatore tutto quello che volete però questo criminale questo dittatore ha detto a tutto il mondo diamo un giorno di pace alla Russia e all'Ucraina facciamo noi moderni e democratici il gesto che fecero spontaneamente i soldati inglesi i francesi i soldati tedeschi sul fronte franco tedesco del Natale del 1914 per 24 ore scambiamoci regali beviamo insieme cantiamo insieme poi ritorneremo ai nostri problemi e riprenderemo purtroppo a ammazzarci ma per 24 ore facciamo questo gesto nei confronti di quello che per molti di noi è ancora il figlio di Dio che è sceso sulla terra per dirci lo hanno in tutti i modi ostacolato lo hanno ridicolizzato gli hanno dato dell'ipocrita hanno fatto di tutto ma nella realtà nessuno di loro a cominciare dal signor Biden che come tutti sanno è un buon cristiano cattolico nessuno di loro ha detto bene il signor Putin è il peggiore degli uomini però ha detto una cosa giusta per 24 ore regaliamo la pace al mondo poi ricominceremo no è una mossa ipocrita non serve a nulla cioè non ammazzare nessuno per 24 ore è una cosa che non serve a nulla noi siamo arrivati a questo livello di inciviltà a questo livello di vergogna noi non ci vergogniamo più di dire cose enormi come il fatto che risparmiare per alcune ore una vita umana non serve a nulla è inutile noi sappiamo quello che è utile e quello che è inutile e infatti noi sappiamo benissimo quello che è utile quello che è utile è stroncare la Russia quello che è utile è ridurre tutto lo spazio eurasiafico tra il nostro frontenato e la frontiera cinese a un grande spazio di democrazia e di libero scambio di cultura di mercato e magari di corruzione tutte queste belle cose che ci permettono di arricchire e di prosperare è questo che vogliamo per il momento noi abbiamo dimostrato questo se poi da oggi o da stasera da domani vorremmo qualche altra cosa io sarò il primo a esserne lieto ma questo attualmente è lo stato delle cose fateci caso nessuno dei nostri governi fa nemmeno un passo nel senso del tentativo magari unilaterale magari inutile magari ingenuo magari stupido ma del tentativo di pacificazione noi diamo la guerra come uno stato di fatto diamo la vittoria degli ucraini e quindi degli occidentali come una necessità assoluta che nasconda o cancelli tutte le altre non un accordo non una una forma di pacificazione qualunque non magari una un'uscita dalla guerra senza nei limiti del possibile senza vincitori e senza vinti perché quando si comincia una trattativa si comincia sempre dicendo questi sono i nostri punti irrinunziabili ma questo lo sanno tutti è diplomaticamente parlando il necessario punto di partenza dopodiché i punti irrinunziabili diventano immediatamente rinunziabili certo bisogna trattare la diplomazia è una forma di di attività umana che assomiglia molto al mercato però noi a questo mercato non ci vogliamo andare noi a questo tavolo non ci vogliamo sedere e non possiamo più ormai dar la colpa a Putin siamo passati dal fatto che Putin aveva tutte le colpe e magari era anche ammalato e magari era anche impazzito ultimamente Gerenzi ha provato addirittura a dire che era morto siamo passati da questo a limitarsi a ignorare qualunque possibile via d'uscita Putin ne indica il suo ministro Lavrov ottimo ministro degli esteri tra l'altro professionalmente parlando ne indica ne propone si risponde sempre alzando la posta e nella pratica rifiutandosi di sedere di sedere a un tavolo al quale l'altro sarebbe già seduto basterebbe dirglielo e avverrebbe il miracolo sarebbe dirgli va bene sediamoci subito oggi immediatamente non ci sarebbero vieti di vieti di sorta da parte del Cremlino però da parte di Washington si tasce e quindi da parte di Kiev si tasce quindi si continua a combattere si continua a spendere a buttare via soldi a cominciare dai soldi di cui avremmo tanto bisogno anche noi e la presidente Meloni lo sa benissimo cioè nonostante gioca questo gioca questo gioco che è un gioco al massacro e continuiamo ad alimentare uno stato di guerra è fatale che questo stato di guerra non resti così le cose non possono restare così abbiamo avviato un processo dinamico se non lo fermiamo le cose peggioreranno se non lo fermiamo dilagherà io non so se dilagherà con il metodo della chiazza d'odio oppure con il metodo della macchia e leopardo questo lo ignoro queste cose vanno chieste ai militari che forse potrebbero dirci qualche cosa però so con certezza anche per il mestiere che faccio che è quello del vecchietto un po' maniacale che si diverte a sapere cosa è successo nel passato e cerca alla luce di quello che è successo nel passato di intuire quello che potrebbe succedere nel presente io so che in questi casi o si ricorre immediatamente allo strumento di pace oppure le cose peggiorano e peggiorano in un modo che purtroppo non ha oggi più limiti né politici né tecnologici né umanitari questo deve essere chiaro a tutti poi per il resto ognuno si prenderà le sue responsabilità sì quindi diciamo che il quadro che ha delineato è chiaro insomma e ha messo in serie i fatti anche per mettere in luce un racconto critico un racconto diverso da quello a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno nell'ultimo anno da parte dei medi italiani quindi su comunque su quindi ormai gli argomenti su cui volevamo insomma su cui volevamo focalizzarci è stato ampiamente con una disamina storica fondamentale da partito quindi dal lontanismo e cui ci ha spiegato tutto il tracciato e tutti una serie di rapporti che c'erano tra russi e ucraina quindi io direi per me l'intervista è completa quindi direi che possiamo essere possiamo dire se abbiamo abbiamo finito per stamani e ti ringrazio per essere stato per essere stato con noi vorrei chiudere con due speranze la prima è che insomma insomma io sono cattolico quindi mi rifaccio sempre a una realtà superiore io spero che Dio consigli bene i nostri governanti tutti tutti a cominciare naturalmente a Giorgia Meloni ma anche andando andando in su diciamo verso poteri più forti fino al presidente degli Stati Uniti sperando che il prossimo presidente degli Stati Uniti non sia affetto da demenza senile perché a questo punto ce ne vorrebbe uno con la festa sulle spalle si 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 Grazie.